buongiorno oggi vi faccio vedere una cosa che ho scoperto guardando un video sapete guardare i video è utile no tante volte ti fa il lavaggio del cervello ma qualche volta invece è utile vedete qui ho già rimosso un pezzo di questa è una specie di adesivetto voi direte ti dice le scritte no ti dice gli amper no ti dice i dati ti dice qua ti dice là in realtà questo qua e ben altro se voi tirate via questa bella pellicola e petina solo un po visto che bella docente sotto in più vi faccio vedere una bella sorpresina che hanno preparato per noi di natura quanto meno misteriosa perché voi mi spiegherete che cazzo è questo ve lo spiegate sull'adesivo non collegato da nessuna parte cos'è lo tengo lo butto io comunque ci credo